Ciao, benvenuto in questo video dedicato all'ipnosi. Io sono El e se mi conosci saprai che questa è la terza sessione di ipnosi che faccio per te. E' la terza perché mi è stata richiesta tantissimo e quindi mi sembra giusto dedicare questo rilassamento a te che mi guardi. Se è la prima volta che vieni nel mio canale e è la prima volta che guardi un mio video di ipnosi, ti devo dire che la mia ipnosi personalizzata è fatta di step. Nel primo step cercherò di rilassarti e nello step successivo ti farò vedere un ciondolo, una collana del sonno di El, che è una collana magica e dopo ti spiegherò il perché. Inoltre, invece se sei già veterano di miei video di ipnosi, allora sarai a cavallo perché saprei benissimo come sono strutturati. Ok, a questo punto definiamo bene i ruoli perché sai che ho un video di ipnosi, quindi io cercherò di ipnotizzarti con questa pratica. Io sono qui per rilassare te, tu sei qui per ascoltare me, quindi ti chiedo di collaborare, di eliminare qualsiasi rumore esterno che ci sarà in questo video perché ci saranno, fanno parte ormai dei miei video. Perfetto, vedrai che la sessione può iniziare, quindi assumi una posizione comoda ed osservami bene e ascolta attentamente e fai tutto ciò che ti dirò. Da questo momento, uno, due, tre. Osserva le mie mani. Sappi che io sono qui solo ed esclusivamente per rilassare te. Osserva le mani. Osserva le mani. Osserva le mani. Attentamente. E ora, segui le mani. Attentamente con uno sguardo. Non ammetto distrazione. Tutto in tondo. E qui è tutto magico. Come puoi vedere, la luce si abbassa e stella in base al movimento delle mie mano. Più vado vicino al mio viso, più la luce si abbassa. E uno. E due. E tre. E tre. Silenzio. Silenzio. Che, ora, ci sarà la sessione vera e propria. Ora ti mostro la mia collana. La mia collana, la collana dell'ipnosi, la forma di chiave. Questa è magica perché è capace di aprire la porta del sonno e dei sogni. Quindi, se la seguirei attentamente con lo sguardo, sicuramente ti addormenterai. ok inizierò a ipnotizzarti quando ti sono iscritto al canale scherzo inizierò a ipnotizzarti quando mi darai il via ok 1 2 3 guarda attentamente la collana scherzo destra e sinistra 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 la collana col suo andare a destra e sinistra togli i lati scandisce il tempo il tempo che serve per farti rilassare e addormentare ora questo è un po' di rilassare oltre a sinistra destra e sinistra e addormentare non distogliere lo sguardo il ciondolo tondola continua a guardarla attentamente e sappi che non esiste nulla di sbagliato al mondo tutto è perfetto non esistono cose cattive e tu stai per addormentarti più guarderai attentamente la collana più ti addormenterai velocemente e sentirai come lo stress della giornata o della settimana passerà pian piano secondo il ritmo della chiave destra e sinistra destra e sinistra destra e sinistra la mia collana magica ti farà addormentare e forse ci sta già riuscendo va tutto bene va tutto bene tutto perfettamente bene non chiudere gli occhi fin quando non te lo dico io hai gli occhi pesanti perfetto non esiste più nulla perfetto vedi solo me e la collana perfetto così deve essere da questo momento io conterò da 20 a 0 farò un conto alla rovescia una volta che sarò arrivata a 0 tu ti addormenterai continuo a guardare la collana che quando finirò di contare chiudirei gli occhi e ti addormenterai tutto ad un colpo perché lo dico io sei pronto? 20 19 guarda la collana e le mie lambe che sono sullo stesso livello 18 17 16 15 14 13 12 11 10 silenzio stai per addormentarti e agli occhi pesantissimi quindi 9 8 7 silenzio 6 agli occhi pesantissimi 5 li stai chiudendo 4 3 2 1 0 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19